Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi farò una nuova serie di video riguardo degli acquisti che potete effettuare sulla vostra macchina sotto i 10€ Quindi vi mostrerò 5 prodotti che ho selezionato su Amazon sotto i 10€ accessibili a tutti Quindi io direi di cominciare con questo Già penso che le avrete viste anche in un mio video Perché io le ho messe e sono buone, di buona qualità Per il momento ancora non si sono rovinate, sono perfette, lucide, senza un graffio E quindi le modanature per l'amito o per qualsiasi macchina insomma Questo è un kit che adesso sta in sconto a 7€ Comunque sia per abbellire gli interni ci sta Vi posto qua sopra il link al mio video se non l'avete ancora visto E ovviamente ci sono di tanti colori Passiamo al secondo prodotto Una semplice antenna per abbellire la vostra macchina di fuori all'esterno Quindi levate l'antenna schifosa che ci sta Potete mettere un'antenna a sparco Non per forza questa Ce ne sono di 3.000 modelli insomma Quindi vi regolate voi Esistono anche quelle a pinna di squalo Come secondo i vostri gusti Questo è il prodotto comunque sia carino Un'antenna base abbastanza corta e sottile E sportiveggiante A soli 9,90€ Secondo prodotto per abbellire la vostra macchina all'esterno Potrebbe essere una coprivalvola Per i vostri cerchi Ovviamente io l'ho presa di colore rosso Ma potete metterla di qualsiasi colore volete E qualsiasi modello volete Questo mi sembra quello un po' più carino Senza andare troppo sulla tamarraggine E a soli 5,99€ Un altro prodotto Siamo arrivati al terzo Questo è una cosa che avevo già acquistato Su cui ho fatto anche già dei video Ovvero delle lampadine LED T10 Da sostituire nel vostro abitacolo Comunque sia nella macchina interna E non necessitano di resistenza Le lampadine T10 Quindi le potete mettere dove vi pare Profoniere varie Anche nelle luci targhia Per quanto riguarda la mito Però lì in quel caso dovete mettere la resistenza Ce ne sono 10 Sono ovviamente bianche Vi posto il link Che vi manderà qualche video Insomma su queste lampadine A soli 9,79€ Ultimo prodotto Questo è un acquisto Che farò Tra poco insomma E vi porterò un video Su come rappare Le maniglie interne Della mito Perché si spellano Quindi volevo fare questa Miglioria Insomma questo è un colpo All'occhiello Insomma Da mettere in macchina Ovviamente ci vuole un po' di mano Per fare un lavoro del genere Quindi Vi lascerò il link di questa lista È una lista pubblica Quindi potete accedervi Iscrivervi al canale Se non l'avete fatto Seguitemi su Instagram E sulla mia pagina Facebook Se vi servono Consigli e la cosa vi piace Scrivetelo nei commenti Ciao a tutti ragazzi Scriviti al canale